L'imprenditore Raffaele Di Santi è il nuovo presidente provinciale dell'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Succede ad Augusto De Panfilis che assume l'incarico di vicepresidente. Sono molto onorato di rappresentare 5.000 iscritti delle circa 80 Proloco iscritte all'UMPLI L'Aquila. E' veramente un pregio anche perché le Proloco oggigiorno sono sempre più considerate come un vero e proprio braccio operativo dei comuni e quindi sono quelle associazioni anche riconosciute dalla legge 30 che operano sul territorio per la salvaguardia delle tradizioni e della cultura. E portiamo alcuni esempi fondamentali come per esempio il rito dei serpari di Cocullo che sta finendo l'accredito per l'UNESCO, per il patrimonio immateriale, quindi un qualcosa di livello mondiale. così come anche abbiamo altri esempi virtuosi in tutta la provincia ma sarebbe molto molto lungo elencare. Quindi per me tenere unite le Proloco vuol dire dare sempre più rappresentatività a questo territorio, aiutare sempre di più anche quelle amministrazioni che oggigiorno per esempio tramite le Proloco per esempio completano il cartellone degli eventi, delle manifestazioni. Raffaele Di Santi entra a far parte inoltre del Consiglio regionale dell'UMPLI in quello provinciale insieme a lui e ai vice Augusto De Panfilis per Pettorano Sul Gizio ed Oliviero Pacetti per Roccacerro figurano i coordinatori di Bacino Franca Bianchi per Pratola Peligna, Valeria Bernabèi per Sescinaro, Marco Cetra per Carapelle Calvisio e Fabrizio Salustri per Capistrello, consiglieri Vincenzo Angelone per Onna, Maurizio Liberatore per Corfinio, Jessica Sandonato per Prezza e Giuseppe Celseti per San Vincenzo Balleroveto. Vengo da Sulmona ma nel Consiglio provinciale ci sono equamente ridistribuite quasi tutte le Proloco quindi ben rappresentate di tutte le zone territoriali. Il Presidente Di Santi tra le prime azioni da compiere intende ricreare l'albo delle Proloco chiedendo al Presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa. Noi abbiamo la legge 30 del 2004 che stabilisce che le province devono per legge stabilire una certa somma in bilancio da dare alle Proloco. Ora tutto questo si è un po' fermato giustamente anche con il terremoto capisco e così come anche l'albo delle Proloco provinciali si è anche un po' rimasto indietro quindi poco aggiornato. Quindi uno dei miei primi atti sarà invitare il Presidente della provincia Antonio De Crescentis a un incontro in cui insieme potremo fare una sorta di protocollo d'intesa per creare un nuovo albo delle Proloco e di vedere appunto se ci sono le possibilità di mettere a bilancio finalmente delle somme da dare alle Proloco ovviamente è previo dei progetti virtuosi. Raffaele Di Santi ricorda a tal proposito che nel 2014 ci fu un finanziamento di circa un milione di euro da parte della Regione con fondi ex FAS attraverso il bando Proloco e Turismo. Ancora di più sottolineiamo l'importanza delle Proloco che dovranno sicuramente essere sempre aiutate e da me tutelate. Il neopresidente provinciale dell'UMPLI annuncia infine che verranno organizzate delle giornate informative sulla fiscalità e sulle norme igienico-sanitarie da rispettare in particolare nelle sagre.